Niente Sus, Kraus chiudi no, sono ancora a K.O. E' assurdo quello che è successo, guardali come sono laggiù ad aspettare che inizi l'incontro. Joe, cameraman, come ti chiami? Il vostro Sus ha perso il suo titolo, si sente nudo e crudo. Dov'è il suo maestà? Ora tocca a lei per il main event, incredibile. Oh Sus, finalmente sta arrivando scheda. Il suo maestà era una UU, 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 UU. Il vostro Godo Champions, che sconfiggerà tutti i incredibili, si stava allenando nel boschetto 15. Stavo dando i boni incredibili ai lialdi. Ma che cos'è successo con i incredibili? Klaus chiudi no, SUS! Il suo maestà è successo un po' di cose, SUS, adesso le spiego. Quindi SUS è perso il titolo. come io stavo accennando siamo stati sconfitti da quei tre sus personaggi laggiù e Krauss chiudinò sono proprio K hanno perso il loro cintone di coppia e forse sus è stato ferito più nell'orgoglio e ha perso il suo titolo mi sta in bocca al lupo per il suo match in calibre il cameraman caccia a quei tre non lo posso fare perché? Perché hanno i biglietti dobbiamo cambiare questa regola cameraman che anche se ci sono personaggi sus e hanno i biglietti bisogna cacciarli dall'arena in calibre comunque il vostro scritto adesso è pronto a sconfiggere Animal Show sus sei pronto? insomma stavate a tocca a lei tanto adesso verranno il nonno e il king a fare compagnia sus e se quei tre si avvicinano il vostro scritto li distrugge quindi andiamo dobbiamo portare anche loro in infermeria cameraman aiutami ok? oh suo quanto chi ha arrivato è veramente lui tusk tusk non sembra forte come dico assurdo oh no lì un'energia non buona questo nonino mi termina sotto controllo non lo schienino io non ho idea che ci saranno sorpresi anche per lui e per quel tizio con la corona anche adesso si direi che qua si vuole l'incontro di schieno king 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 baldo giovane hai studiato per il potere incalibri del nas questo devi imparare devi imparare king è calmo devo fare l'arbero per l'incontro incalibri artonice rintosaca mamma mia prototype face day night incalibri king calmo qui la situazione è problematica cosa succede sui incalibri? e che sono quei tizi? vuoi che vado a eliminare quei tizi sospetti laggiù? king stai attento sono molto più potenti di quel che sembrino e ho perso anche il mio titolo quando Suss perde il titolo da New The Champion è una situazione molto grave mi alliscio il baffin capito comunque adesso il vostro king si metterà lassù vicino Shepard e controlleremo che il match vada tutto secondo i piani continuo a studiare baldo giovane spuo spuo e non lì non è arrivato è un cannibolo giuro king come va? king king mamma mia lo king è di buon morso come va? no non me lo chiedete tutti ma non potete capire per un Suss come me a non avere più la mia cintura e vederla addosso a quell'infame lurido e toglierò quello e non mi smetterò qui vicino a te e se ci saranno problemi durante l'incontro rispetterò questo pugno sbogoso adesso le loro facce sbogose e speriamo bene vai camera ogni match sta per iniziare ed eccoci arrivati al main event di Godo Manion 2 abbiamo visto già dei titoli cambiati Sus è triste ci sono tutti quanti qui incredibili Kraus e Puglino sono stati proprio in infermeria per forza perché sono ridotti male questo match è quale per il Godo Championship incredibile assurdo e pazzesco lì ci sono quei tizzi sospetti che mi guardano male però io devo fare il mio ruolo d'arbitro incredibile vado ad entrare incredibile Animal Junior incredibile e adesso il campione il pubblico adora il vostro schedo incredibile Animal Junior vieni qui schietro is the time forza camera viene il momento ring the bell fatti sotto sei saltato in braccio il vostro schedo incredibile il becca di questa slime iniziale oh oh ho fatto il incredibile attenzione uno che c'è mamma mia assurdo ha fatto il kick out a uno uno anche schietro ha fatto il kick out e prendi questo Animal Junior il vostro schedo ha studiato arti marziali incredibili cosa stai facendo oh no schietro you have no idea how much stronger I am oddio schietro incredibile suplex del vostro schedo che è il fortaniglia oh 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 il vostro schedo non si arrederà mai oh 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 grazie il suo maestà combatta bene king 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 lo sono superiore il vostro schedo si è allenato rispetto all'anno scorso per me di questo ti farò sbattere incredibile oh adesso il vostro schedo dall'alto incredibile oh il vostro schedo oh now it's time to stop oh no aspira di Animal Junior assurda prendi questo schieto oh 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 prendi questo schieto oh yeah it's time to end this adios schieto oh oh e dove è poi arrivai sul ring Animal Junior damn me you schieto non è finito ha schivato il colpo che è oh do you like this schieto oh sono investito oh cavolo questo è un colpo pesante take this schieto oh 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 due oh 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 prendi quanto oh 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 sono cappone tutti e due a quanto pare oh 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 danni io schieto oh preso al volo schieto oh oh uno due no di nuovo dannazione oh ogni cosa per rimanere campione dove andato oh cosa vuoi fare schieto oh uno due oh again oh uno due no come sta come va king king che duro che hai visto questo coso ho sbattuto pure la testa adesso lo distruggo come stassi a te che è pericoloso quel coso peroso oh io non posso andare veramente vuoi far vedere il migliorato e ho capito no ma potevi impegnarti un po' di meno ecco la signora dove è andato quel coso cameraman dove non lo so schieto è andato da qualche parte evidentemente cosa quella è la cintura incredibile you are fucked up ma mi ha lanciato la cintura questo non sta bene incredibile now you can escape spia oh and now it's time to end this goodbye schieto schieto tutto bene uno due schieto 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 uno due schieto is not to stop my son schieto now it's time cosa sta facendo sta buttando telepasta su prestazzi attento schieto addios non lo farai voi schieto il bestiaccia ah caldi questo che è stato incalibri uno bottom sulle spie da lato ah ma dove schieto un'altra ah il vostro schieto ah uno due tre schieto sciezione è il momento c'è niente di che sto all'attacco dai è il momento ragazzi non abbiamo neanche il berbo di festeggiare ragazzi ascolti king 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 come ti permetti tu chi sei per toccarle incredibile chi incredibile adesso sono senza parole tu ti credi un reale Io sono l'unico principe di questo universo Tu verrai eliminato, eliminato, eliminato Telo regale King, che succederò? Non ti avvicinare o ucciderò questo inutile King, King Il mio telo reale rimuove la regalità delle persone Quindi questo King è pregato King, King, lascialo stare Stai attento a non ostacolarlo King, King Sottomettiti adesso Il King è andato Come era preguitivo Cosa sta succedendo al nonno? Spu, spu, ma King Adesso il nonno arriva Cosa fa mai arrivato dietro di me? Non puoi compadere le mie marionette Te le trasportano via Cosa? Le mie marionette sono troppo fonte Come va, principe? Mi si è infiammato il buco che ho in testa e nascondo sotto il cappello per la rabbia Non ho parole Gili è il tuo momento È crazy È il momento di entrare in scena Crazy Vieni qui, crazy Sparisci Crazy out of nowhere E adesso la pianta Può solo guardare E quella cintura sarà del nostro gruppo di crazy Ancora una volta Oh, ok Piace, stai su questa Crazy Stai tranquilla pianta Non è arrivato in questo momento Ma questo è uno statement anche per te Crazy Il godo non è più di moda crazy Il non godo La via via Show via crazy 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 Grazie per la visione!